Grande successo per il doppio appuntamento con L'Ovolio Extravergine e Cantini Aperte a Natale. Eventi entrambi organizzati dal Movimento Turismo del Vino Puglia in collaborazione con l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. Dalla mattina fino al pomeriggio è stato possibile visitare i frantoi aperti per consentire a turisti, appassionati e curiosi, di scoprire le aziende incontrando i produttori, assaggiando e acquistando i vini e gli oli extravergine di produzione direttamente nei luoghi in cui nascono. Abbiamo anche intenzione molto forte anche di dover creare i presupposti per aumentare questo tipo di attività, ma soprattutto supportare le nostre aziende per migliorarci dal punto di vista della qualità e anche cercando appunto di finanziare nuovi interventi, inserendo anche, come ben diciamo, anche il comparto innovativo all'interno di questi processi. Da Foggia a Lecce sono state 12 le aziende aperte nel corso della giornata, di cui 5 frantoi. Noi abbiamo il 70% di ospiti stranieri, il 30% di italiani, la maggior parte ben pressati come le sardine, tutti a Pasqua, tutti a Ferragosto e tutti a Capodanno. Negli altri 11 mesi di paradiso abbiamo praticamente solo stranieri che hanno capito tutto della vita e vengono a passare qui le vacanze mangiando i nostri 4 extravergine, le nostre 15 confetture extrabiologiche, i nostri 35 liquori fatti in casa, le nostre 45 erbe selvatiche commestibili. Tante le iniziative messe in atto dagli aziende per stimolare il coinvolgimento dei visitatori, selezioni di prodotti tipici, musica, mostre e attività culturali hanno accompagnato la giornata accanto a classiche visite alle cantine e ai frantoi. Abbiamo fatto un giro del frantoio per fargli vedere un po' quello che è il nostro ciclo di produzione e poi abbiamo offerto loro una degustazione semiprofessionale. In masseria abbiamo allestito una piccola sala degustazione e li aiuteremo ad avvicinarsi al mondo dell'olio. In ciascuna cantina gli enoturisti sono stati accolti in un clima di festa per degustare i vini di produzione e ammirare e acquistare manufatti artigianali. Un'intera giornata dedicata alla cultura dell'extravergine da conoscere, assaggiare, degustare e acquistare per dare sapore alle ricette di tutti i giorni. Successo di palati per l'ultimo nato, l'olio nuovo appena spremuto, associato alle pietanze tipiche. Offerte per esaltare gli abbinamenti gastronomici più appetitosi. Non sono mancati gli itinerari speciali fra frantoi e cantine per gli appassionati di bicicletta, con le associazioni Ruota Libera Bari e Ciclo Amici di Brindisi e Mesagne.